buongiorno a tutti benornati sul mio canale in questo nuovo video vedremo altre domande di diritto amministrativo per concorsi pubblici in particolar modo per le prove scritte del concorso 1850 posti in con riferimento al riesame con esito confermativo del provvedimento adottato la riforma risposta spetta all'autorità che ha manato l'atto e a quelle che sono legittimate ad una revisione integrale del provvedimento con riferimento al riesame con esito conservativo del provvedimento adottato la convalida la esposta presuppone tra l'altro un interesse pubblico alla conservazione dell'atto con riferimento all'esame con esito conservativo del provvedimento adottato la convalida la esposta richiede la sussistenza di ragioni di tutela dell'interesse pubblico e l'esistenza di un termine ragionevole entro il quale effettuare la convalida con riferimento all'esame con esito conservativo del provvedimento adottato la convalida risposta è un provvedimento di riesame contenuto in osservativo articolo 21 noies legge 241 1990 con riferimento all'esame con esito conservativo del provvedimento adottato la convalida risposta è un provvedimento di secondo grado con cui la pubblica amministrazione riconosce che un vizio inficia un proprio provvedimento e lo rimuove con riferimento all'esame con esito conservativo del provvedimento adottato la convalida risposta spetta alla pubblica amministrazione che ha emanato l'atto all'autorità gerarchicamente superiore con riferimento all'esame con esito conservativo del provvedimento adottato la conversione risposta e consiste nel considerare un atto invalido nullo a volte annullabile come appartenente ad altro tipo di cui esso presenta i requisiti di forma e di sostanza con riferimento all'esame con esito conservativo del provvedimento adottato la conversione risposta per ex tutung in passo al principio della conservazione dei valori giuridici lo riferimento all'esame con esito conservativo del provvedimento adottato la ratifica è esposta è un provvedimento nuovo autonomo costitutivo con cui viene eliminato il vizio di incompetenza relativa da parte all'autorità assolutamente competente la quale si appropria in un atto adottato da autorità incompetente lo stesso ramo con riferimento all'esame con esito conservativo del provvedimento adottato la ratifica risposta elimini in vizio di incompetenza relativa con riferimento all'esame con esito conservativo del provvedimento adottato la rinnovazione la risposta è possibile sempre che l'atto precedente non sia stato annullato per ragioni di ordine sostanziale esempio mancata di un presupposto con riferimento all'esame con esito conservativo del provvedimento adottato la rinnovazione la risposta si verifica quando l'amministrazione a seguito di una nuova conderazione degli interessi emana un nuovo provvedimento che sostituisce integralmente quello scaduto con riferimento all'esame con esito conservativo del provvedimento adottato la sanatoria la risposta a efficacia retroattiva con riferimento al riesame con esito conservativo del provvedimento adottato la sanatoria la risposta non costituisce ad autonomo provvedimento di riesame ma si sostanza in un meccanismo mediante il quale è attuata la conservazione del provvedimento invalido come ad esempio il sovravenire dei pareri o degli atti infraprocedimentali legialmente omessi con riferimento al riesame con esito conservativo del provvedimento adottato la sanatoria la risposta ricorre quando il vige dipende dalla mancanza del corso del procedimento di un atto endoprocedimentale la cui adozione spetta al soggetto diverso dall'amministrazione competente ed emane provvedimento finale con riferimento all'esame con esito conservativo del provvedimento adottato la sanatoria la risposta consente la conservazione di un provvedimento invalido mediante l'adozione sopravvenuta agli atti infraprocedimentali inizialmente omessi con riferimento agli esami con esito dimolitorio del provvedimento adottato la revoca esposta quando a competenza disporla spetta all'organo che ha emanato l'atto ovvero ad altro previsto dalla legge con riferimento agli esami con esito dimolitorio del provvedimento adottato la revoca la risposta è un provvedimento che produce effetti non retrattivi e opere ex tung con riferimento agli esami con esito dimolitorio del provvedimento adottato la revoca la risposta è un provvedimento secondo grado con cui l'amministrazione ritira con efficacia negativa un atto inficiato da vizi di merito in base a nuova valutazione degli interessi con riferimento agli esami con esito dimolitorio del provvedimento adottato l'annullamento d'ufficio articolo 21 nones della legge 241.1990 a efficacia retroattiva con riferimento agli esami con esito dimolitorio del provvedimento adottato l'annullamento d'ufficio articolo 21 nones della legge 241.90 la risposta ricorre quando viene ritirato con efficacia retroattiva un atto amministrativo e legittimo con riferimento agli esami con esito dimolitorio del provvedimento adottato l'annullamento d'ufficio articolo 21 nones della legge 241.1990 la risposta produce due effetti uno dimolitorio e uno ripristinatorio con riferimento agli esami degli atti amministrativi quando l'amministrazione ritenga che il provvedimento non necessiti di interventi caudicatori o di sanatoria ripetendo la correttezza e l'egittimità delle determinazioni assunte il riesame risposta si conclude con esito confermativo con riferimento a risultato nella conclusione del procedimento comma 1 articolo 2 bis legge 241.90 sono tenuti al sciacimento del danno per il ritardo della conclusione del procedimento amministrativo sia l'amministrazione dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative quando affermato la risposta è vero con riferimento alla classificazione dell'attività amministrativa l'amministrazione attiva risposta comprende tutte le attività con cui la pubblica amministrazione agisce per realizzare i propri fini vi rientrano sia le attività deliberative che esecutive con riferimento alla classificazione dell'attività amministrativa l'amministrazione consultiva risposta comprende l'attività diretta a fornire pareri, orientamenti e chiarimenti all'autorità che devono provvedere su un determinato oggetto con riferimento alla classificazione dell'attività amministrativa l'amministrazione di controllo risposta e comprende l'attività diretta sindacale secondo diritto o secondo le regole da buona amministrazione l'operato degli enti in cui sono demanati i comiti di amministrazione attiva con riferimento alla classificazione dell'attività amministrativa quale tra le proposte comprende l'attività diretta a fornire pareri, orientamenti e chiarimenti all'autorità che devono provvedere su un determinato oggetto l'amministrazione consultiva con riferimento alla classificazione dell'attività amministrativa quale tra quelle proposte comprende l'attività diretta a sindacale secondo diritto, secondo le regole della buona amministrazione l'operato degli agenti a cui sono demandati i comiti dell'amministrazione amministrativa l'esposta amministrazione di controllo con riferimento alla classificazione dell'attività amministrativa quale delle quelle proposte comprende tutte le attività con cui la pubblica amministrazione agisce per realizzare i propri fini e sempre attività deliberative ed esecutive l'esposta amministrazione attiva con riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo articolo 8 legge 241-90 un'amministrazione può prevedere forme di pubblicità unificate esposto a sì qualora il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa con riferimento alla conclusione di istruttoria dei ricosti amministrativi nel caso di ricosto geratico l'istruzione deve concludersi risposta entro 90 giorni dalla presentazione con riferimento alla conclusione di istruttoria dei ricosti amministrativi nel caso di ricosto straordinario entro quanto tempo dalla data fissata ai conti interessati per le loro deduzioni deve concludersi l'istruzione risposta entro 120 giorni con riferimento alla decisione del ricorso quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse alle parti della decisione articolo 35 codice procedimento amministrativo il giudice dichiara il ricorso risposta improcedibile da riferimento alla definitività o meno dell'atto impugnato quale rimedio è esprimibile quando gli atti amministrativi non definitivi risposta al ricorso amministrativo gerarchico proprio con riferimento alla disciplina per il rilascio dei pareri la pubblica legge 69 di milanove ha inteso facilitare interformativo il provvedimento finale anche in mancanza del parere richiesto il mancato rilascio del parere farcotativo alla mancata rappresentazione delle esigenze istruttorie e risposta obbligo l'amministrazione a proseguire l'interdiprocedimentale prescindendo dall'espressione del parere conferimento alla gestione dei flussi documentari agli archivi del DPR 445 fa obbligo al responsabile del servizio di provvedere a trasferire fascicoli a serie dei documentari relative ai procedimenti conclusi in un apposito archivio di deposito costituito presso ciascuna amministrazione articolo 67 DPR 445 di Mila sposta almeno una volta ogni anno Con riferimento all'incompetenza del contenuto della comunicazione di avvio del procedimento articolo 8 legge 241-90 la giustprudenza ha affermato che la mancata comunicazione dell'unità organizzativa del responsabile del procedimento costituisce una mera irregolarità in quanto tale sanabile Con riferimento alla incompetenza del contenuto della comunicazione di avvio del procedimento articolo 8 legge 241-90 la giustprudenza ha affermato che risposta alla mancanza degli elementi formativi non comporta inevitabilmente l'ilegittimità del provvedimento finale qualora il privato abbia comunque conoscenza del procedimento e possa attivarsi al fine di acquisire le informazioni necessarie Con riferimento alla nullità per violazione o illusione del giudicato il comma 4, ultimo capoverso dell'articolo 31 del codice di processo amministrativo stabilisce che le disposizioni ivi contenute non si applicano alle nullità di cui l'articolo 114,4 lettera B per le quali restano ferme disposizioni del titolo primo del libro quarto le disposizioni rimandate l'esposta non contengono alcun riferimento all'azione di nullità ma disciplinano l'ottemperanza con riferimento alla quadripartizione delle fasi del procedimento amministrativo ricorsi che le richieste e distanze sono proprie esposta della fase dell'iniziativa con riferimento alla quadripartizione delle fasi del procedimento amministrativo in quale fase si acquisiscono e si valutano i singoli dati pertinenti e rilevanti e fini di eliminazione del provvedimento esposta a fase istruttoria con riferimento alla quadripartizione delle fasi del procedimento amministrativo le fasi integrativa dell'efficacia la risposta è un momento solo eventuale ricorrente nelle sole ipotesi in cui sia la stessa legge e non richiede sufficiente la perfezione dell'atto richiedendo il compimento di ulteriori e successivi atti o operazioni con riferimento alla quadripartizione delle fasi del procedimento amministrativo la fase istruttoria esposta è diretta ad acquisire e valutare i singoli dati pertinenti e rilevanti ai fini di eliminazione del provvedimento con riferimento alla quadripartizione delle fasi del procedimento amministrativo con riferimento alla quadripartizione delle fasi del procedimento amministrativo con riferimento alla quadripartizione delle fasi del procedimento amministrativo con riferimento alla struttura del provvedimento amministrativo riscritta la parte che indica le norme di legge giustificano l'esercizio di potere, amministrazione e risultanze dell'istruttoria compresi gli atti di impulso, i pareri, le valutazioni tecniche, eccetera costituisce e sposta il preambolo con riferimento alla struttura formale dell'atto amministrativo la motivazione consta in una parte descrittiva e in una parte valutativa la parte descrittiva è esposta e indica gli interessi coinvolti nel procedimento con riferimento alla struttura formale dell'atto amministrativo l'amministrazione consta in una parte descrittiva e di una parte valutativa la parte valutativa è esposta valuta comparativamente gli interessi motivando le ragioni per le quali la pubblica amministrazione ha preferito soddisfare un interesse in un luogo di un altro con riferimento alla struttura dell'arga massima comune dalla gran parte dei provvedimenti amministrativi scritti in preambolo è esposta e indica le norme di legge che giustificano l'esercizio dei poteri dell'amministrazione e le risultanze dell'istruttore compresi gli atti di impulso del procedimento i parelli o le attuazioni tecniche ecc. con riferimento alla struttura di larga massima comune la gran parte dei provvedimenti amministrativi scritti la motivazione è esposta e la parte dell'atto che contiene l'indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del provvedimento con riferimento alla struttura di larga massima comune alla gran parte dei provvedimenti amministrativi scritti la parte che contiene la firma dell'autorità che emana l'atto o di quella delegata costituisce e esposta alla sottoscrizione il video di oggi termina qua per vedere altri miei video iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche e attiva la campanella delle notifiche